Oltre alla cuzzupa, qual è il dolce più richiesto? Chiaramente la pastiera e la colomba sono gli altri dolci che vendiamo di più rispetto a tutti, insieme alle uova di Pasqua. A Pasqua, come in tutte le festività, la tradizione dolciaria è costante? Sì, abbiamo dei clienti e dei prodotti che hanno un percorso quasi certo. Chiaramente poi c'è l'anno che si vende qualcosa in più, oggi l'offerta è multipla per cui abbiamo tante combinazioni. C'è un anno che va più il pistacchio anziché la nutella o la nocciola, altri anni che va più il classico. La diversificazione dipende un po' dai gusti della gente ma sono poche le grandi variazioni. Insomma, una Pasqua dolce anche quest'anno? Speriamo sì, anche perché è stata una Pasqua un po' fredda, abbastanza rispetto agli anni passati. Di conseguenza c'è poca gente in giro, però ringraziamo il Dio, una Pasqua che offre comunque una sollecitazione alla gente ad essere di più in giro. E quindi benvengono queste festività che accolgono anche quelli che vengono da fuori. Auguriamo una buona Pasqua a tutti quanti. Senz'altro una Pasqua piena di salute e con pochi pensieri e grazie soprattutto.